E' la settima giornata di campionato d'eccellenza del Gironeat tra Manfredonia e Sansevero. Si gioca in campo a neutro dallo stadio Poli di Molfetta. Finisce 2-0 per Isi Pontini grazie ai cambi di Mister De Candia che nella ripresa hanno messo alle corde il Sansevero con l'ingresso in campo prima di Turitto e poi di Asic. Le due squadre si affrontano per la terza volta in un mese. Arbitra il direttore di gara Cipriani dalla sezione di Molfetta con le assistenti Calabrese e Loconte dalla sezione di Bari. Al quarto minuto prima occasione per il Manfredonia con Gissi che calcia da fuori senza trovare lo specchio. Al nono minuto con un'azione costruita sulla catena di destra con Gian Buzzi che serve in area Biason che calcia e prende in pieno la traversa. Al diciassettesimo si fa vedere in avanti anche il Sansevero con una ripartenza in cui la difesa si pontina e si fa collere in preparata con Mora che non è riuscito a calciare grazie all'uscita precisa e attenta di Coletta. Poco dopo sugli sviluppi di corner potenza calcia di prima intenzione ma respinge molto bene Carella. Sempre Manfredonia però al ventisettesimo cerca di sfruttare un'altra occasione con il destro di Gian Buzzi che non riesce a trovare la porta. Manfredonia che spinge perché cerca il gol del vantaggio con l'Attanzio che manda il pallone alto sulla traversa da ottima posizione nell'area piccola. E verso la fine del primo tempo è anche il Sansevero che torna a farsi vedere in avanti con un tiro a giro di De Vito che calcia ma dalla distanza non riesce a trovare la porta di Coletta. Le due squadre così rientrano all'ispo leatoico risultato di 0-0 con il Manfredonia che ha avuto tante opportunità per poter passare in vantaggio con il Sansevero che invece ha tenuto bene il campo senza trovare appunto la via del gol. Ma nel secondo tempo gli uomini di Rufini entrano con un pillo diverso tant'è che prima il diciassettesimo ci prova Salvemini calciando da fuori poi il ventunesimo morra con il sinistro sempre da fuori aria. Trova l'intervento comodo di Coletta ma sempre il Sansevero che dopo neanche un minuto sfiora il gol del vantaggio con il colpo di testa di Canarrozzi che non riesce a trovare lo specchio di porta. Ma con l'ingresso in campo di Aschic e Turitto mister De Candia dà una svolta al match. Difatti al ventinovesimo con una splendida azione di potenza sulla fascia viene pescato in area di rigore Turitto che riesce a spingerla dentro e portando avanti la propria squadra con il risultato di 1-0 con la partita che finalmente si sblocca per gli uomini di De Candia. Ma al trentaduesimo il Sansevero con Canarrozzi sfiora il gol del pareggio colpendo il legno su un'indecisione da parte del portiere che perde il pallone mandandolo prima sul palo e poi in corner. E' proprio dagli sviluppi di questo calcio d'angolo che la squadra di De Candia riparte in contropiede con la velocità di Aschic infermabile trova il gol del 2-0 e soprattutto trova il suo quarto gol stagionale in campionato. Un'ultima azione con Di Nieli che nei minuti di recupero calcia verso lo specchio di porta ma trova l'opposizione di Carella che è molto bravo ad evitare il gol del 3-0. Finisce 2-0 dallo stadio Poli di Molfetta per gli uomini di De Candia che continuano a macinare punti, adesso sono 19 contro un Sansevero che ha tenuto molto bene il campo nonostante la sconfitta.